La riqualificazione di Monterosa 91 è cominciata ormai circa tre anni fa. Cogliendo l'occasione del fatto di avere un immobile che si stava svuotando dai suoi precedenti utilizzatori, ci siamo posti alla domanda di come poter intervenire avendo come obiettivo creare uno spazio sostenibile, efficiente, insomma al passo con le moderne esigenze e in qualche modo pronto anche a rispondere alle future esigenze, possibilmente in un arco temporale mediamente lungo. C'è stata la fortuna, come ho detto credo in più occasioni, di ricostituire gran parte del team originale, a partire dall'architetto Renzo Piano e molti altri che avevano lavorato poco più di vent'anni fa. Ci siamo sostanzialmente seduti attorno a un tavolo facendo una checklist di quelli che erano le nuove necessità e anche naturalmente le problematiche che aveva questo edificio e quindi cercando di pianificare un intervento che potrei definire radicale, soprattutto al suo interno, proprio per risolvere tutto quello che necessitava di essere risolto e creare un posto che fosse bello, non solo efficiente da un punto di vista tecnico, ma fosse ospitale e quindi aiutasse i conduttori ad apprezzare uno spazio che qualitativamente è differente da altri. Chi arriva in Monterosa, l'abbiamo visto in questi mesi, è interessato non solo a cambiare indirizzo, ma a fare un'esperienza, diciamo così, diversa. Noi abbiamo cercato di lavorare su questa esperienza che fosse estremamente concreta. Ci sono spazi con tanta luce naturale, spazi all'aperto, il parco della luce, la piazza, ci saranno servizi come l'asilo, la caffetteria, la palestra, le sale riunioni, quindi cose più legate magari al business e altre più, come dire, leisure. Siamo in un momento storico in cui le persone vogliono lavorare in ambienti confortevoli, ma non semplicemente comodi. Dei posti, se posso dire, belli, piacevoli, dove si possono fare cose diverse, si può lavorare in situazioni e momenti diversi che non siano solo la pure e semplice scrivania. Monterosa 91, a nostro avviso, per quello che vediamo rispetto anche al riscontro da un punto di vista della locazione, offre questo, permette questo, come è noto stiamo finendo alla fine in questi giorni i lavori e quindi molto presto tutto questo sarà effettivamente realizzato e insomma testeremo in concreto se ne siamo stati veramente capaci. Il panel, il quadro dei conduttori che si approcciano a Monterosa o che sono già arrivati è estremamente vario. Questo in fondo anche perché noi abbiamo raccontato di un campus. Il campus è fatto di realtà diverse, quindi è giusto e alla fine potrei dire naturale, al limite dell'ovvio, che arrivino realtà molto diverse, quindi non è monosettoriale. Avremo probabilmente a regime qualcosa come una dozzina di conduttori che vengono da business completamente diversi. Si parla di scuole, di business school, si parla di farmaceutiche, di consulenza, di uffici flessibili. È estremamente vario di società internazionali di altissimo livello, che hanno in comune l'esigenza di trovare spazi qualitativamente alti, che diano un'esperienza anche ai loro dipendenti, ai loro ospiti, ai loro partner di livello elevato e quindi aiutino ad apprezzare il fatto di essere in Monterosa 91. E questo secondo noi è una cosa che non sempre è facilmente realizzabile. è necessario oggi, secondo noi, come esigenza di mercato e anche in prospettiva e riteniamo di esserci riusciti o se non altro essere molto vicini a completare questo quadro.